È stata una partita molto combattuta, il Bellante ha dominato per lunghi tratti, però poi alla fine voi siete riusciti comunque a portare a casa un punto. Sì, certamente, una partita tecnicamente reputo poco valida, ma molto combattuta da entrambe le squadre. Veramente delle guerriere in campo, il campo era quello che era. Presumo che sia una delle prime partite che si gioca su un campo in terra battuta. Finora abbiamo trovato sempre campi in erba sintetica. Comunque è una partita dura, ma corretta. Le ragazze sono state all'altezza della situazione. Noi avevamo timore di questa trasferta, oltre per il rispetto dell'avversario, ma soprattutto avevamo una rosa esigua. Oltretutto mancava il nostro allenatore, il vice allenatore, per motivi familiari, per cui stavamo in apprezzione sotto questo punto di vista. Però è andata bene, è uscita bene. Una bella giornata di sport, di calcio. Siamo contenti del risultato che si temeva, sia per il rispetto della squadra avversaria che per l'eseguità della rosa.